A che pensi, Marcellino? Dove sarà la mamma tua adesso? Con la tua. Come sono le mamme? Che fanno? Danno. Danno sempre. E che danno? Tutto. Se stesse. La vita è la luce degli occhi ai figli. Finché diventano vecchie e curve. Anche brutte? Brutte no, Marcellino. Le mamme non diventano mai brutte. Dico andare via, mi chiamano. Tu vuoi molto bene alla tua mamma? Con tutto il cuore. Io alla mia di più.